Il Consorzio Brianteo di Villa Greppi lancia una campagna destinata a privati ed aziende per sostenere un importante intervento di riqualifica. Lanciamo la campagna Villa Greppi, quello che manca sei tu, per chiedere a tutti i cittadini di partecipare al recupero e restauro del Giardino All'Italiana di Villa Greppi. Il Giardino All'Italiana è un meraviglioso giardino terrazzato che tutti possono vedere perché è ai piedi della villa e chiediamo a tutti i cittadini attraverso l'Art Bonus di aiutarci nel suo recupero. Il progetto di restauro costa 250 mila euro e se tutti mettiamo un nostro piccolo contributo, grazie all'Art Bonus riusciremo a portarlo a compimento. Lo strumento dell'Art Bonus è molto importante perché dà la possibilità di donare attraverso erogazioni liberali per il recupero di beni culturali, del patrimonio culturale del nostro Paese. Quello che si dona viene recuperato al 65% grazie alla detrazione fiscale dell'Art Bonus. Sono venuta qui per consumare delle ore di alternanza scuola-lavoro. In pratica partecipo agli eventi volantinando e cercando di convincere le persone e le aziende, quindi sia i pubblici che i privati, a donare in favore della villa della mia scuola. Per il Consorzio Villa Greppi c'è anche un altro progetto in ambito artistico, ovvero quello di diventare una residenza stabile per artisti e performer. Sì, abbiamo recuperato un'aula della villa, è la prima aula della villa che abbiamo recuperato e la vogliamo utilizzare per un'attività artistica. Diventerà un atelier, un laboratorio stabile che ospiterà artisti del territorio e anche artisti internazionali. In questo momento abbiamo messo un bando per raccogliere le candidature di chi volesse partecipare e venire a aprire il suo laboratorio a Villa Greppi. Verranno selezionati gli artisti migliori e a loro daremo per un anno intero la possibilità di creare qui a Villa Greppi. Chiaramente chiederemo loro di interagire con le attività culturali del Consorzio Villa Greppi, di interagire con le scuole, con il territorio e tutti i cittadini avranno la possibilità di vedere come nasce un'opera d'arte dal suo concepimento a quando viene realizzata compiutamente. Questo progetto ha anche lo scopo di fare in modo che gli artisti possano donare alla fine del loro percorso l'opera che hanno realizzato, la possano donare al Consorzio Villa Greppi in modo tale che andremo a costituire una collezione di Villa Greppi, la prima collezione di opere d'arte di Villa Greppi.